Lo sport in collaborazione con Abitare a Bosco Marengo Abitare si occupa esclusivamente di cucire Qui ogni cosa è a tua disposizione per aiutarti nella scelta La nostra è una storia di serietà, competenza, passione Un pareggio e due sconfitte fra le squadre alessandrine che militano il camionato di serie di Novese Acqui, Dertona e Castellazzo scesi in campo oggi per disputare il primo turno infrasettimanale Risultato a sorpresa nel derby fra Acqui e Dertona vinto dai Leoncelli con un sonoro 3-0 La Novese in trasferta a settimo torinese ha conquistato un prezioso punto I Novesi si sono andati in vantaggio nel primo tempo ma si sono fatti raggiungere nella ripresa pareggiando 1-1 E' finita in favore del Pinerolo la gara di Castellazzo La squadra del presidente Cosimo Corino è stata sconfitta sul terreno di casa per 2-1 dopo aver pareggiato con Piana un rigore realizzato agli ospiti nei primi 45 minuti il Pinerolo è andato in vantaggio nella seconda parte della gara Lo sport in collaborazione con Abitare Kitchen Store, solo cucine, nessun'altra distrazione Il meteo in collaborazione con Punto Fuoco Tortona Piastrelle, parchè e arredo bagno Stufe, caldaie e caminetti pellet E-Servizio è il nostro miglior prodotto Offerta prestagionale Stufe a pellet compra d'estate per restare al caldo d'inverno Punto Fuoco di Tortona Punto Fuoco di Tortona sulla circomballazione Angolo via Pernigotti La fondazione Teodora allevia le sofferenze dei bambini ricoverati in ospedale attraverso un'attività artistica giocosa e divertente La visita dei Dottor Sogni I Dottor Sogni restituiscono il diritto a giocare ai piccoli ricoverati Portando loro un mondo di magie, colori e giochi di prestigio e divertimento Sono gli interlocutori privilegiati dei bambini perché capiscono e parlano il loro stesso linguaggio In più offrono un valido sostegno alle famiglie E sono anche artisti professionisti che collaborano con medici e infermieri Cambiano ogni volta approccio a seconda delle esigenze dei vari reparti Grazie alla visita settimanale dei Dottor Sogni i bambini evadono per alcuni attimi dalla realtà a volte temuta dell'ospedale Tutti i bambini hanno diritto a questo momento di gioia Per informazioni info-teodora.it